Sì, se non la bastiglia... Ma si è più? Sì! Ma... Va? Dei essere lampeggianti? È da piano! È da piano di luce! Però non la bella fa male! Comunicato Scatelare Perui, senza capire. Na! Perum. Perum? Perum? Come un'intera, non? Sì! Sì! Perum? 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 con mostro nooo, non sembra l'olvere e la nostra ciglietta Buongiorno. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti